oggi 12 marzo tananai è stato ospite di mara veniera domenica in dove si è esibito sulle note di tango canzone quinta classificata al festival di sanremo 2023 dopo aver parlato del grande successo che sta vivendo il cantante si è visto consegnare il disco d'oro per il suo brano san remese da mara venier che gli ha anche augurato che possa presto trasformarsi in un disco di platino prima di lasciare gli studi della trasmissione l'artista ha voluto fare un tenero gesto nei confronti della conduttrice ma ti piace ha chiesto a zia mara facendo riferimento alla placca che certifica la sua canzone se ti piace te lo regalo volentieri tanto la casa discografica me ne fa avere un altro ha poi continuato la veniera è rimasta senza parole e completamente incredula di fronte alla generosità e dolcezza del regalo di tanani la 72 n veneta non è riuscita a trattenere la commozione e ha dichiarato come in tutta la sua carriera televisiva non le sia mai capitata una cosa simile dopo avergli promesso che appenderà il disco nelle mura della sua casa ha travolto tanani in lungo abbraccio ringraziandolo ancora per un gesto che ha definito come un atto d'amore ed affetto che mi commuove più tardi la presentatrice ha condiviso il video della commovente scena sul suo profilo instagram spendendo altre parole di ringraziamento e di affetto per alberto ramusino vero nome di tanani lavoro da tanti anni tranquilli presto andrò in pensione ma sono rimasta molto colpita da questo gesto così affettuoso e unico chi altro l'avrebbe mai fatto nei miei confronti da parte di tananai grazie davvero sei nel mio cuore ragazzo con un animo nobile e generoso la zia ti vuole bene il post è stato inondato da migliaia di leaks e commenti da parte degli utenti che hanno apprezzato tantissimo questo momento televisivo anche lo stesso tananai ha commentato il video scrivendo ti voglio bene zia grazie grazie grazie